Si spengono le luminarie e rimangono i problemi come la solitudine degli anziani, così Luciano Ralli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, che in una nota pone l'accento sulla condizione degli anziani aretini ed interroga l'amministrazione Ghinelli. Per la solitudine non ci sono farmaci, dichiara Ralli, e questo profondo malessere affligge anche alcuni giovani e dà come conseguenza l'abuso di alcol, droghe o di mezzi tecnologici. E poi Ralli snocciola i dati della realtà aretina presentati recentemente in un convegno con i Neacli. Ad Arezzo la popolazione anziana è circa un quarto del totale, 25.000 persone. Di queste ben 10.000 vivono sole. Se poi vogliamo immaginare come, riflettiamo su altre due cifre. Il reddito medio da pensione nel territorio si aggira sui 750 euro mensili e gli anziani non autosufficienti sono circa 2.100. Quelli affetti da demenza 2.300, ancora più impressionanti, sono i dati in proiezione futura decennale. Ci sono però azioni possibili, prosegue Ralli, ad esempio mettere in rete il volontariato comune e ASLA per creare risposte nuove e tempestive, un riferimento 24 ore su 24 capace di far fronte all'emergenza e creare condizioni per risposte stabili, sensibilità nuove che si stanno affermando. Arezzo conclude Luciano Ralli con il centro-destra continua a rimanere indietro, da sola. Grazie a tutti.